Di una squadra che è stata una squadra tradita da un giocatore per un atteggiamento, non lo so se posso dire la parola, meglio non dire, con un atteggiamento non professionale, ha tradito lo sforzo di tutti gli altri. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!